Il piedino Speedy 4x4 è un piedino speciale che ci permette di superare qualsiasi spessore. Grazie al suo movimento oscillante e abbinato a un set di aghi speciali, è perfetto per fare orli ai jeans. Sulle ribattiture scorre senza problemi permettendoci di ottenere ottimi risultati con semplicità. Se avete una macchina per cucire basica e non professionale, questo è il piedino che fa per voi. Supera qualsiasi spessore anche su più strati di jeans, lasciando un orlo perfetto. Con una semplice cucitura, abbinata a questo fantastico piedino, fare gli orli ai jeans non sarà più un problema per voi, perché la vostra macchina non si crocherà mai più, evitando così la continua rottura di aghi. Questo piedino lo potrete trovare in esclusiva da Cardano Cecilia. Chiamate subito, non fatevi sfuggire questa fantastica opportunità. Da ora in poi cucire sarà più facile. Acquista con fiducia da Cardano Cecilia, assistenza online e telefonica, 5 anni di garanzia, insegnamenti, in scuola gratuita presso i nostri centri vendita. Vieni da Cardano Cecilia, in via Novara 111 a Galliate, con la certezza di trovare la passione per il cucino. Dal 1969, Cecilia Cardano non è solo un nome, ma una garanzia per sempre.